Lo avevano annunciato il 18 gennaio scorso presso il Palazzetto dello Sport di Penne in occasione del secondo anniversario della tragedia di Rigopiano dove persero la vita 29 persone a causa di una valanga che inghiottì il resort Gran Sasso. L'abruzzese Federico Perrotta e il romano Pino Insegno saranno protagonisti il prossimo 9 luglio alle ore 21 presso il Teatro d'Annunzio di Pescara con lo show per un pugno di risate in una serata dedicata interamente al Comitato Vittime di Rigopiano. Lo spettacolo teatrale offerto a titolo completamente gratuito dagli attori e dai tecnici ha lo scopo, come si legge dal profilo ufficiale Facebook Rigopiano in attesa del fiore, di favorire la raccolta fondi per il giardino della memoria che nascerà proprio in località Rigopiano. Lo stesso Comitato durante la serata donerà un cane da ricerca al soccorso alpino. Il titolo che nei giorni scorsi ed è stato qualche polemica all'interno del gruppo è un termine adatto per spiegare spensierati momenti di allegria dopo tanto dolore. Cercare di ricominciare a sorridere non è assolutamente mancanza di rispetto per chi abbiamo perso, continua il Comitato. Anzi, è per i nostri angeli un segnale di ripresa della vita che a loro è stata tolta e a molti stravolta. Ribadiamo con fermezza che trascorrere una serata in assoluta spensieratezza con l'intento di progettare il futuro luogo dove poter rendere immortali i nostri angeli non può che fare onore a chi li ricorda ogni giorno da quel 18 gennaio e a chi ci sta mettendo la faccia per far sì che tutto questo accada. Il 9 luglio saremo al teatro meraviglioso, mitico per quanto mi riguarda, non solo per quanto mi riguarda perché al teatro d'annuncio a Pescara io cominciai le prime turnelli ed era meraviglioso vedere già quel colpo d'occhio di tutta quella gente in questo bellissimo anfiteatro. E ci sarà tutta quella gente anche il 9 luglio per un motivo importante. Sì, sì, per le vittime di Ricopiano sarà una giornata importante e come promesso di fronte a voi in più occasioni finalmente ci siamo. 9 luglio, ore 21, teatro d'annuncio per un pugno di risata.